Passa anche dagli uffici e dalle strutture di Caltacqua il processo integrazione che nell'ambito di uno specifico progetto di accoglienza integrata destinato ai rifugiati e richiedenti asilo, vede protagonisti alcuni immigrati giunti di recente in Sicilia. Sono due infatti i giovani, entrambi pakistani, che da qualche giorno stanno svolgendo presso gli uffici centrali di Caltacqua a Caltanissetta il project work gestito per conto dell'amministrazione comunale del capoluogo dall'associazione Girasoli. Si tratta di un progetto della durata di tre mesi destinato ai migranti, ospiti degli SPRAR, le strutture di accoglienza allestite col sostegno del Ministero dell'Interno nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che mira a mettere in campo concrete iniziative volte all'interazione e dalla loro socializzazione anche in contesti lavorativi e produttivi.